Giovedì 14 settembre, primo giorno di scuola in Sicilia. La spesa per i libri e il corredo scolastico. Smentito il rincaro del 20% sui testi. Gloria Scafè! L'inizio dell'anno scolastico è ormai alle porte e i genitori sono impegnati nei conti per le spese da affrontare in occasione del rientro a scuola dei figli. E nella spesa da preventivare i libri di testo non sono che una parte. Bisogna infatti provvedere all'acquisto altrettanto considerevole dei dizionari e del materiale di cartoleria, dagli zaini, le calcolatrici e altro ancora. Per quanto riguarda i libri di testo, una notizia positiva alla vigilia dell'anno scolastico 2017-2018 l'ha diffusa il sindacato italiano Librai che smentisce il paventato rincaro del 20% sull'acquisto di ogni singolo libro di testo. Il sindacato ha svolto in proposito un'accurata indagine che ha svelato la spesa reale che le famiglie italiane dovranno sostenere per l'acquisto dei libri scolastici. Ed è emerso che la spesa per i libri rimarrà invariata rispetto allo scorso anno 2016. Anzi, sembra che la spesa media sia persino diminuita rispetto al 2012. In riferimento alla spesa complessiva, gli addetti ai lavori hanno preso in considerazione 52 istituti scolastici superiori in 39 città differenti. Si rileva innanzitutto che vi è una disparità tra la spesa necessaria per i primi anni delle superiori e quella per gli anni scolastici successivi, in quanto graverebbero per i primi anni di studio i costi dei dizionari. In genere il prezzo medio per l'acquisto dei libri per il liceo classico è di 307 euro, mentre per il liceo scientifico sono sufficienti 275 euro. Si tratta di cifre relative ai prezzi di copertina dei libri di testo, ma se si ricorre a libri di testo usati, acquistati dai negozi o dai privati, ovviamente la spesa si riduce di circa il 40%. Il nostro microfono in una cartolibreria ad Agrigento. Dalle prime ore del mattino la cartolibreria si riempie di persone, ecco quanta affluenza c'è in questo periodo di acquirenti? Ovviamente essendo un articolo che interessa un po' tutti gli alunni che vanno a scuola, le famiglie, cercano sin da ora di procurarsi i libri per poter cantare sin dai primi giorni i figli con i libri a scuola. Quanto ammonta quest'anno la spesa per i libri scolastici? Dipende molto dall'indirizzo scolastico di cui si parla, perché ci sono i licei che solitamente costano di più ovviamente, ma dipende dall'anno che si frequenta anche all'interno del liceo. Pertanto si può parlare da circa come tutto nuovo sui 400 euro per un anno, il primo anno, e circa altrettanto per quanto riguarda il terzo anno, che sono gli anni più cari perché iniziano due corsi di studi nuovi. Di media, comprando tutto nuovo, diciamo che c'è un 350 euro di libri da spendere. È stato smentito il rincaro del 20% quest'anno sui libri, è vero? Il libro non ha assolutamente questo aumento, sono prezzi gestiti dal Ministero e che non possono aumentare di così tanto. Molti libri addirittura continuano ad avere il prezzo dell'anno precedente.